È una serata piena di sorprese dedicata essenzialmente alle grandissime potenzialità che ha il cervello umano. Abbiamo diversi scienziati che lavorano nel campo della neurologia e della neurobiologia e che portano esempi concreti di persone che hanno anche problemi, di amnesie, di oblio, gente che ha perduto la memoria. La serata si intitola Non dimenticare le mie parole evocativamente e tratta di quanto il cervello possa determinare alla fine i nostri comportamenti. In questa occasione i neuroscienziati ovviamente con l'apporto di alcuni supporti multimediali, immagini e filmati che ho portato io personalmente, trattano dal punto di vista scientifico le grandi potenzialità che abbiamo. Iova satt patini laggrivo vilohitaha.